Giravo, giravo, se mi giravo era questo con la macchina No, volevo sapere come stavi Stai bene? Stai proprio bene? Un po' di freschetto Un po' di freschetto, ci credo che ho un po' di freschetto Eccolo là, meno male Che fai? Mi fai la... Scommetto che mi fai la foto? Sì, guarda che è venuta Puoi anche alzare gli occhi Non so gli occhi? Ecco qua Non mi ha mai preso Non so se ti piace, ma... Però in effetti non c'è Qua dice, alle 5, nord-nord-est 11.13 Alle 8, nord-nord-est 12.12 Alle 11 cala 7-8, 3... E Mare Carlo Attacca Sergio e questo... No, però piuttosto cazzarci domani mattina presto Ma va bene, ma si può cantare... Luciano, ma si può cantare My Way in francese? Si può Non solo si può, si deve Eccola Ma come si deve? Ma dai, ma non dire stupidaggini, dai Ma non c'è un goccetto, perché io ho la bocca con la pimenta C'ha la bocca, dai, fai dagli un goccetto perché c'ha la bocca lui Sì Ecco Dagli un goccetto perché c'ha la bocca Poi mettete alla bottiglia la friscia No, 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 non mi permette di mazzia Ora lo offro un po' delle mie... No, e poi il bicchiere Comunque questo che sto riprendendo è il grande Priamo che ci ha dato buca quest'anno Dice che naturalmente è colpa del nipotino Che gli ha rovinato pure la mano, il braccio, la spalla Guardate, guardate Ma Giovanna l'ha già rimesso in moto L'ha rimesso in moto? Vada, vada con gli suoni Vada da là, vedi Non muovevo Quindi potevi naturalmente Quella crema era rum Vada da qua Vada da qua Vada da qua Vada da qua E questa qua mi parla Vada da qua Vada da qua Vada da qua Vada da qua Sì, Sergio, io sono sceso lunedì con mio amico C'è un giorno di permesso Vada da qua Ma, ragazzi... Gli rendete bui Ma ce l'ha mai possibile Non c'è un attimo di privacy Dici, non c'è un attimo di privacy Ma non è poi Non c'è un attimo di privacy Però non è giusto. Non è giusto. Mi stavo raccontando una cosa... Ma è roba... E' una cosa indica. E va bene, ma allora... Allora ditemelo, no? E' una cosa indica. Com'è la storia dei gabbiani? Perchè lui è di Roma. Perchè lui è di Roma, dai. Guarda, oggi abbiamo... Siamo passati davanti a una madre. Una madre dei gabbiani. Allora sai che fai? Non li devi... E' lo stormo delle vacche. Pranni, tanto certo. Ci si ritroverà, Pranni. Guarda tui cretini di primo giorno. Non li devi distruttare. Li devi passare mezzo miglio, non stai.